Un grande cantante per voi, oggi! Scatenato stasera! Bregeton, bregeton! No! Bregeton, segretò! No! Tutti insieme con la voce! Bregeton, bregeton! No! Stasera è scatenato! Che è? A mo' vaga lui sto bregeton, a mo' vaga! E tu puoi stare a casa! Andiamo a parlare del pezzo nuovo che è uscito questa settimana! Allora, sto scendendo lo single ragazzi, una canzone bellissima dedicata a mia cugina Mari, che si è offesa perché gli devo dare un euro! E come si intitola? Mari, ci vediamo lì! Bregeton, bregeton! No! No, io sa quei beberoni! Io sa! Alla totti! Alla macchina, invece quando la macchina... No, perché sogno un catimonizzo, sogno! Sogno un catimonizzo e me ne manto! Sono pazzo! Sono bravi le donne! Ammoiglialo! Ammoiglialo e tu puoi stare a casa! Ragazzi, dovete evolvere! Lo spettacolo va avanti! Ce ne proviamo subito, date chi c'è capito che si è evoluzione! Shhh! Bam! BAM! Sai cos'è? Sogno tutto scoppiato, su! Fa lì! BAM! Ma chi dava fa lì? Brividi, bro! Shhh! Fa lì! Facciamo... Rinsegniamo il passo alla gente! Rinsegniamo il passo perché io faccio la sbreak it dance, questa sera facciamo un passo dove impariamo tutti insieme, se il DJ vuoi risale a Cotoletta... Vai guardiamo i risultati insieme! Break it down! Break it down! Beghi l'occhio! Passo! F*** it up, f*** it up, f*** it up! F*** it up, f*** it up, f*** it up! Break it up, 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 break it up! Tu passo! Un bypass! Un bypass! Un bypass! Un bypass! Andiamo col freestyle! Vabbè, scopera! Allora, facciamo una... Scusa, io sto... Facciamo una bellissima rima con Muro! Ok! Muro, ci proviamo, se il maestro prega Dio, vuol signore non aiuto a fare poi tra la base? Ok! Ho sbagueto! Ehi! No, vieni a me, ho fatto! Guarda giù! Io la voce che te la metto, però che sa che morrià a finire! Scusa, chi te hai fatto, ma? Un e due, un e due, c'ha pensato signore! E quindi? Ma te pare che sa fa giù pettine! Ma non vuoi capire! Non vuoi capire! Non vuoi capire! Non vuoi capire! Vai con le mani su, tutti insieme! Non ci sono, ma non! Pronti per la rima! Ehi! 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 Non c'è la rima con muro! Yeah! Yeah! Vino figlio di mece, ho ordinato la pasta col pesce! Oh yeah! Senza prenderne neanche un assaggio! Ehi! Ehi! Non c'è la rima con muro! E picci un necco se sbattere l'uomo! Come sta l'è? No! PEM! Caghera! Caporanno! Allora, chi è? PEM! Dementore! Ma lo vuoi fare tu? Ma lo voglio fare! PEM! Facciamo l'altra rima, dai! Allora, facciamo delle rime che trattano temi del sociale... Sentilo! Oggi parliamo di comunicazione Ci abbiamo un esperto per l'occasione Un esperto di comunicazione Lui è un giovanissimo e ci parlerà di comunicazione Lo facciamo entrare No, 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 no! Assolutamente! Assolutamente! Fino che è bravo Fino! Fino che è bravo Fino! Fino che è bravo Fino! Senti che non mi farei male Fino Perfino, io lo dico a lei, io lo dico a lei Ho visto qua? Puh! Non l'ho visto qua? Calma! Non è capace! Ma fammi chiami la posizione! Cortesemente! Non è capace! E oggi ci farà addirittura una rima doppia cioè una rima che chiuderà su due parole Non è capace! Non le sentire! Le due parole sono parlare e capire Dalla ragazzi non è capace! Ci proviamo! Fidati! Fino che è bravo! C'è! Non c'è niente, non c'è niente 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 Occhio arriva con parlare e capire Sì Perché c'è così E perché hanno richiesto il tuo a chiamando, facendo Gio Gio Parlare, capire? Dov'è la rima? E' il tuo barretto, sai capire? Occhio! M.O.P. now C'è bravo, c'è bravo C'è bravo Ma la posso fare io? 1, 2, 2 1 Puh!